Invito tutti i telespettatori di Rete Veneta a domenica 24 marzo alle 20.45 al Teatro Comunale di Vicenza in occasione di un meraviglioso concerto con l'orchestra dei fiati della provincia di Vicenza che suonerà la Gran Sinfonie di Belio a favore della raccolta benefica della Fondazione San Bortolo. Sul palco ci saranno circa 80 musicisti, quindi sarà una cosa molto dirompente e che si spera trasmetta entusiasmo al pubblico che ci sarà ad ascoltare e sostenere questa grande iniziativa come la raccolta fondi per il San Bortolo. Purtroppo un'automedica in un grave incidente è andata distrutta, abbiamo bisogno di dotare nuovamente questa importantissima struttura di pronto intervento di un'automedica. Quindi facciamo un invito a venire tutti al Teatro Comunale di Vicenza, un grandissimo spettacolo di fiati, ascolteremo della bella musica ma aiuteremo i nostri ospedali. Quindi venite.